E' stato staccato dalla Pro Favara il biglietto per la finale play-off. I gialloblu eliminano in casa l'Aragona e domenica prossima si giocheranno le Cedlenza contro il Tiger di Brolo che nell'altra semifinale batte 2-1 in trasferta il Mazzarà. A regalare la seconda finale stagionale ai Favaresi, il miglior piazzamento ottenuto in campionato chiuso al secondo posto a discapito dei cugini aragonesi classificatisi quarti. Al comunale Giovanni Bruccoleri di Favara, infatti, nonostante i 120 minuti di gioco al triplice fischio finale dell'arbitro, il risultato è rimasto fisso sull'1-1 grazie alle reti entrambe realizzate nel secondo tempo da Cambiano per l'Aragona e Cordaro per la Pro Favara. Pubblico delle grandi occasioni a Favara per l'ultima gara casalinca della stagione nutrita anche la presenza ingradinata di supporter aragonesi. Ad un primo tempo privo di occasioni rilevanti, si contrappone una seconda frazione di gara ricca di gioco e di occasioni per entrambe le formazioni. A sbloccare la partita sono gli ospiti con una punizione dell'ex Eliseo Cambiano, ma il vantaggio per i ragazzi di Marco Aprile dura poco. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Fanara, infatti, è il solito Cordaro a deviare la palla di testa inzaccandola in rete. Ristabilita la parità, il risultato non cambia fino al termine del match. Da segnalare il nervosismo in campo negli ultimi minuti di gioco, causato da un presunto langio di oggetti dagli spalti che avrebbero colpito un calciatore dell'Aragona. Animi placati dal direttore di gara, con i cartellini rossi riservati ai due capitani Fanara e Sorce. A fine gara, grande festa per i tifosi che dal comunale salutano la grande stagione dei gialloblu. In attesa di conoscere lo stadio che domenica prossima ospiterà la finale contro i messinesi del Tiger Brolo, i gialloblu si godono il successo ottenuto. La finale play-off ripropone il match giocato in occasione delle semifinali di Coppa Italia, quando ad avere la meglio nelle due gare disputate era stata la Profavara. Società quest'ultima che per il salto di categoria ha anche la scienza di Coppa Italia, di cui è finalista con il Bagheria. Soddisfatto per la finale raggiunta, l'allenatore Ignazio Crescenzo. L'eccellenza è quasi realtà? Ancora no. Le partite vanno giocate, sono partite difficili. Pensiamo a una partita alla volta. Domenica incontreremo sicuramente una squadra che vorrà vingere per andare pure in eccellenza. Quindi non è ancora realtà. Cercheremo di non farci sfuggire l'occasione. Ne abbiamo due e quindi speriamo di raggiungere l'obiettivo prefissato. Ancora il Tiger Brollo. Quindi sarà una rivincita per loro. Per noi sarà una finale da portare il Favara in eccellenza. Sono due squadre che ormai si conoscono. Una partita difficile sicuramente. C'è stato un episodio che stava per marchiare la partita. Che cosa è successo? Sicuramente niente. Quando c'è stanchezza succede anche questo. Io penso che dopo aver giocato 100-110 minuti può succedere un po' di nervosismo. Io ho visto una partita molto corretta. Anche l'abitro ha estratto forse uno o due cartellini. Un pubblico meraviglioso. Quindi ci può stare. E' importante che si finisce bene. Contento per la prestazione dei suoi uomini. Anche il tecnico dell'Aragona Marco Aprile. Che ringrazia i giocatori per gli sforzi compiuti. E polemizza con la classe politica aragonese. Per i mancati impegni finanziari promessi alla società. Quanto pesa questa eliminazione senza sconfitto? Pesa tantissimo. Però è la classifica che ha determinato questo. Tanti complimenti a tutte e due le squadre. Alle due tifoserie. È stata una grande giornata di sport. Peccato perché abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol. E penso che ai punti, se una squadra doveva meritare, era l'Aragona. Siamo arrivati con delle assenze importanti. Tipo quella di City Bondo. Che per noi è un giocatore troppo importante. Abbiamo sopperito a questa assenza. Abbiamo creato diverse palle gol. Ci sono state un paio di parate del giovane portiere del Favara. Un palo con Lulù. Peccato. Peccato perché stavamo per centrare un piccolo miracolo in condizioni. Lo dico anche a lei. L'ho detto già da altre due televisioni. Però io sono uno che ha sempre detto quello che pensa. Infatti spesso non trovo squadra per questo motivo. Dispiace che dei politici vengano al campo prima di una partita a fare propaganda. E poi quando ci sia da dare un contributo alla causa si facciano da parte. Così come dispiace che alcuni dirigenti ci abbiano messo soldi e tanti di Tascalore. e qualcun altro si è scappato negli ultimi mesi lasciando ragazzi che viaggiano da Palermo, da Licata, approntando delle spese non indifferenti. Lasciarli così alla deriva. Dico questo perché voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che sono stati eccezionali in questo scorcio di campionato. hanno percepito soltanto il rimborso spese, hanno portato avanti un campionato e nessuno ci dava per partecipanti ai play-off. La partita a Profavara-Aragona è stata ripresa integralmente da Sicilia TV con telecronaca di Lillo Pecoraro e trasmessa oggi nel corso della nostra programmazione. Per quanto riguarda i play-off di eccellenza invece, l'Agragas batte l'Alcamo 2-0 ed accede agli spareggi nazionali per un posto in 0-D. Il successo dei biancazzurri allo stadio Catella di Alcamo porta la firma di Biondo, autore di Entrambe le reti.